Tutto l'importante è venuto da compagnia Eni, Marco, Piero, Beatrice e tutti i nostri bellissimi e bravissimi ragazzi. Buon Natale, un felice anno nuovo per quanto possibile. La comunità di Sant'Egidio, a cui immagino lo conosciate, ha inventato una bellissima campagna che si chiama Aggiungi un posto a tavola per anziani, soli, persone senza dimora, migranti, profughi, bambini e famiglie in difficoltà. Aiutiamo la comunità di Sant'Egidio ad aggiungere un posto a tavola a Genova, in Italia e nel mondo. Come si può fare? Lo si fa mandando un sms al 45568, donando 2 euro dal cellulare oppure se chiamate da un telefono fisso quando una chiamata è una donazione di 5 euro. Non è un gesto obbligatorio ovviamente, dovete farlo. Quindi detto questo auguriamovi veramente a tutti voi un felice Natale, un meraviglioso buon Natale 18. Grazie, buonanotte.